Raccolta anche in alcuni libri, in varie opere. Ecco, lei quando torna in Italia si sente un po' un pesce fuor d'acqua adesso, non vede l'ora di rientrare tra poco, tra pochi giorni ritorna proprio in Africa. Dove sta meglio, in Italia o in Africa? Eh, domanda molto difficile, perché per me è molto difficile lasciare i miei nipoti. Abbiamo la fortuna di avere i figli che condividono le nostre scelte, infatti sono tornati sia mia figlia che mio figlio a darci una mano, sono tornati anche i nipoti, anche l'ultimo che ha appena cinque anni, già è venuto due volte con gran patema d'animo, perché c'è la malaria endemica, c'è il colera, ci sono molte malattie, comunque io credo che la suco e conoci ama. Questo non c'è dubbio, perché più impegnati di così, credo con tutte le persone che sarete riusciti veramente ad aiutare. Io volevo far vedere anche questa foto, che si riferisce all'inaugurazione, se ci spiegano... Del nuovo reparto, della nuova Nutrition Unit, perché la prima unità nutrizionale, nella quale appunto assistevo i bambini malnutriti, era uno sfascio. E l'ospedale, come ho detto prima, è cresciuto grazie a dati di generosità. Abbiamo un Verona Award, il reparto maschile regalato da una sottoscrizione di medici, organizzata dall'avvocato Gian Battista Rossi, veronese, parlo di 40 anni fa, poi abbiamo una sala operatoria, dono di una veneziana, il primo reparto pediatrico, dono di un vicentino. E questo nuovo reparto, per i bambini malnutriti, lo devo a Marisa. Spero che mi senta, perché la ringrazio con tutto il cuore. E questa nuova Nutrition Unit è il mio regno. Perché io passo lì le ore più intense, più belle, veramente, della mia giornata. Questo ci fa capire che, se aveste qualche aiuto in più, sicuramente ci sarebbero tanti bambini in più anche, che potrebbero salvarsi. Noi abbiamo un progetto di assistenza agli orfani da IDS, abbiamo più di 200 bambini affidati alle famiglie, che io e mio marito seguiamo nei periodi, due periodi all'anno in cui andiamo in Uganda, e abbiamo un progetto per garantire... Scusi, questi bambini orfani li aiutate a studiare, li date anche da mangiare, quindi è un progetto per aiutarli proprio a crescere? A crescere. Assicurati magari dai nonni o dagli zii, dai parenti che sono rimasti? Sì, infatti, soprattutto nonni, perché la generazione di mezzo è stata proprio falcidiata dall'IDS. Anche alcuni bambini sono malati di IDS. Noi assicuriamo, naturalmente, assistenza medica, un aiuto per il cibo, e la scolarità elementare. Le classi sono sette, secondo il sistema inglese. Poi, se c'è qualcuno particolarmente dotato, organizziamo, cerchiamo delle borse di studio e lo facciamo andare avanti. Questo è molto bello. Siamo quasi in chiusura. Io ricordo il vostro sito, che è www.amicidiangal.org. se qualcuno volesse sostenere le vostre iniziative, trova tutte le indicazioni sul sito. Sì, che è tenuto da nostro figlio. Che è seguito da vostro figlio. Quindi è formatissimo. Certo, aggiornatissimo. Se poi ci fossero medici che vogliono andare per un periodo, diciamo, da un mese in poi, come tempo, per essere utili e non pesare magari sull'organizzazione e il lavoro, voi accettate dei medici volontari? Noi abbiamo bisogno di medici volontari. Partiamo sempre con qualcuno. Il dottor Sigilino è già venuto quattro volte, è venuto un laboratorista, sono venuti dei dentisti. Però, appunto, l'impegno è almeno di tre, quattro settimane. Perché già il viaggio è lungo. Siamo all'interno della savana, siamo a 450 chilometri dalla capitale. E quindi un giorno si perde per il viaggio dall'Italia, un giorno per arrivare a destinazione, un giorno per tornare indietro. Quindi resterebbero pochi giorni. Poi c'è la difficoltà della lingua. Quindi la prima volta un medico è difficile che si renda proprio utile. Però è importante che venga, che veda e che torni soprattutto. Infatti abbiamo un bel gruppo di medici, un gruppetto di medici che torna, che è già tornato tre, quattro volte. Questo è molto bello. Io voglio, ormai in chiusura, voglio chiudere con questa immagine di Gesca. Di Gesca nel momento in cui ha superato il suo stadio di malnutrizione, perché veramente ci fa vedere come l'azione, l'impegno delle persone può veramente cambiare una vita. E come ha cambiato la sua vita, può cambiare la vita di tante altre persone che poi a loro volta possono portare la promozione ma anche la salvezza a tanti altri. Lanciamo un ultimo messaggio, signora Claudia. Sì, ne avrei tanti. Voglio solo lanciare questo messaggio che la commozione che ho provato quando ho tenuto in braccio il bambino di Gesca che pesava quattro chili mi ha fatto capire che il mio impegno, il mio lavoro non è andato perduto. Anche se la mia famiglia ha fatto di sacrifici, soprattutto i figli, perché non sempre hanno potuto venire con noi, soprattutto quando erano piccoli. L'ultimo messaggio è aiutateci, aiutateci ad adottare qualche altro bambino, a ricoverare gratuitamente i bambini, perché uno dei progetti riguarda proprio il ricovero gratuito di bambini. Per poterli ricoverare gratuitamente abbiamo bisogno di fondi, perché l'ospedale ha delle spese. Quindi abbiamo questi due progetti importantissimi. Pediatria gratuita, unità nutrizionale, quindi sono tre, e assistenza agli orfani. Benissimo. Io rimando al sito www.amicidiangal.org e diamo anche un numero di telefono di riferimento, perché non tutti hanno questo collegamento con internet. Il nostro numero di telefono è 045 751-3296, ma tra pochi giorni ripartiamo per l'Uganda e quindi per due mesi non ci troverete. Quindi rimandiamo al sito? Meglio il sito, sì. Va bene. Allora, grazie signora Claudia e degli amici di Angal per averci portato un po' di Africa qui e averci raccontato queste storie, questo impegno grandissimo. Noi le auguriamo veramente di poter aiutare tantissime persone ancora, insieme a suo marito. è stata un'opera bellissima quella che state facendo. Grazie per essere stata qui con noi. Grazie a voi per l'opportunità che mi avete dato. Buon rientro e soprattutto buon lavoro. Grazie. E noi con la voce delle donne ci rivediamo la prossima settimana. Grazie a tutti. Grazie a tutti.